Eccoci, buonasera a tutti, grazie di essere qui in questa serata, questa serata all'insegna del fresco, siamo alla festa del perdono e stasera hanno chiamato noi, ci siamo lasciati il 25 d'agosto, se c'era qualcuno, con il festival della cultura, con l'appuntamento di stasera e come abbiamo promesso siamo tornati, noi siamo in Florence Brasquinte e stasera vi offriamo un tributo, uno spettacolo tributo a cosa? Alla musica moderna dagli anni 70 fino ai giorni nostri.